Il terreno della Galizia Un doppiare La primavera Per il treno per la Galizia Cent'anni Ersta Veltri Treno per la Galizia Se mi piace il treno della Galizia E' stato un viaggio interessante Poi io in particolare mi occupo del Del progetto radiofonico sul treno E quello è Devo dire che è molto divertente E' la seconda volta Che facciamo questo esperimento Che adesso non è neanche più Un esperimento perché comunque è collaudato E funziona E' la primavera Ci sono sicuramente Ci sono sicuramente E' la storia E' la storia E' la storia E' la storia Di attorno E' la storia Grazie per la visione!